L'ispirazione è praticamente un po' un ritorno al tailoring, per me che di solito non lo faccio mai, nel senso è la prima volta che sono vicino a una forma di abiti un po' diversa da quella che faccio. Ho lavorato molto su questi cappotti, su questi giochi con delle forme strettissime in vita, qua si è lavorato come dei corsetti per dei cappotti, dei cabane, della maglieria, con dei tessuti tipicamente inglesi, aris tweed, mescolati con dello chiffon, con del pizzo, con delle espressioni molto femminili, e poi ha anche lavorato con una espressione di maschile e femminile insieme, dove gli abiti di Trompley l'hanno sopra del bustino e la gore invece sono dei pantaloni da uomo tagliati. L'aria c'è voglia di divertirsi, di ritornare a vivere, questo sicuramente, quindi comunque una voglia di avere dei vestiti fatti bene, molto belli, con dei bei colori, con dei bei materiali e sicuramente con un'aria un po' di festa, sicuramente. No, 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 no Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.